Sono 130 le opere prioritarie per l'Italia inserite in Italia veloce il piano di investimenti per il rilancio dell'economia messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che affianca il DL Semplificazioni e il Piano Nazionale di Riforma passati dal Consiglio dei Ministri. Un numero importante che comprende anche le tante infrastrutture toscane fra cui l'eterna incompiuta due mari. Ci sono per la Toscana senz'altro novità importanti che sono frutto di un impegno mio, dell'assessore Ceccarelli decennale e ancora di più per le giunte che si sono succedute alla guida della regione. Prima di tutto la Grossetofano che a voi dovrebbe interessare in modo particolare, la Due Mari che collegano il Tirreno con il Mar Adriatico. Questa è una strada di sviluppo che può tagliare il cuore della Toscana, dell'Umbra e delle Marche e davvero essere fuoriera di prospettive molto interessanti per il turismo, per gli scambi economici. E poi ancora interessante è tutto il rafforzamento del corridoio tirrenico sia con la varianta Aurelia messa in sicurezza e dovunque a quattro corsie ma anche con il rafforzamento della linea ferroviaria della Prontremolese. E poi ancora il porto di Livorno su cui mi sono impegnato tantissimo, abbiamo messo anche tante risorse, l'idea che possa procedere ad un commissariamento il governo per accelerarne i tempi è importante. Poi a me è arrivata ieri la nomina al commissario del Ponte Aulla, quello che è caduto, leggeremo quali poteri. Mi pare che complessivamente si sia presa la strada giusta, compreso il fatto che fino a un certo importo, massimo 5 milioni, si possono fare opere attraverso una trattativa diretta che non significa fare i propri comodi ma che significa accelerare, mettere a confronto offerte diverse e scegliere ovviamente la migliore nell'interesse dei cittadini. Sono opere strategiche per la Toscana, sono opere strategiche per i territori che queste infrastrutture attraverseranno o dove saranno realizzate. Pensiamo alla Due Mari, essendo qui ad Arezzo, quanto tempo è che aspettiamo la sua conclusione, il suo avanzamento? Devo dire che la Ministra De Michele ci ha dato un segnale importante con lo stanziamento delle risorse di 8 milioni per la progettazione del nodo di Arezzo e per quanto riguarda il lotto tra Ville di Monterchi e Selci Lama. Ora con un commissario ad acta tutto sarà molto meglio monitorato, ci saranno dei poteri speciali che accelereranno tutte le operazioni per quanto riguarda l'acquisizione dei pareri, per quanto riguarda le procedure di appalto. Quindi direi che questa è la volta buona, la Toscana ne ha bisogno, ha bisogno delle infrastrutture viari come la Tirrenica, la Due Mari ha bisogno della Darsena Europa che farà del porto di Livorno uno dei porti più attrattivi del Mediterraneo e quindi credo che siamo sulla strada giusta e tra l'altro rappresenterà anche un importante asset dal punto di vista della ripresa economica e del rilancio occupazionale. Grazie.